Viaggiava in auto con 70 bottiglie di alcolici e diversi chili di parmigiano, suddiviso i spicchi di circa 800 grammi, il tutto per un valore complessivo di oltre 1000 euro. Quando è stato fermato, ha poi addirittura tentato di corrompere i carabinieri per lasciarlo andare e così è scattata la denuncia per ricettazione di beni alimentari, di evidente provenienza furtiva e per induzione alla corruzione di pubblico ufficiale. È successo ieri pomeriggio quando i militari della stazione di Cavriglia, durante un controllo lungo la strada chiantigiana, nel tratto che da Montevarchi porta a Cavriglia, hanno notato un'auto sospetta e l'hanno fermata e perquisita. Dal bagagliaio è così saltata fuori una grande quantità di generi alimentari, probabilmente trafugati poco prima in uno o più supermercati del Val d'Arno. Il conducente della macchina, un trentenne albanese, residente a Roma, con precedenti perfurti nei supermercati, non ha saputo dare spiegazioni sul perché avesse tanta merce in auto. Si è contraddetto più volte e poi ha offerto ai militari le migliori bottiglie di liquori purché lo lasciassero andare via. Tentativo ovviamente risultato vano. Per il trentenne è scattata la denuncia, mentre le bottiglie di formaggio sono stati sottoposti a sequestro e resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso attualmente accertamenti dei carabinieri per risalire ai legittimi proprietari della merce.